In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in programma domani, la diocesi di Bari ha aperto una colletta per le attività di accoglienza e organizzato una serie di eventi che aiutino a riflettere sul tema di quest'anno, migranti minorenni vulnerabili e senza voce. Gli eventi e le celebrazioni si svolgeranno tutte nella parrocchia del Redentore dove ha sede una comunità di minori. Domani, domenica, 15 gennaio alle 11.30, l'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Francesco Caccucci, presiderà la celebrazione eucaristica che sarà animata dalle comunità di migranti della città. E spostiamoci a Molfetta dove il vescovo Monsignor Domenico Cornacchia ha nominato il suo vicario generale. Si tratta di Donna Raffaele Tatulli, attualmente parroco di Santa Chille in Molfetta. La scheda. A conclusione del ritiro spirituale del clero, il vescovo della diocesi di Molfetta, Giovinazzo Ruvo Eterlizzi, Monsignor Domenico Cornacchia, ha comunicato la nomina del vicario generale della diocesi. Si tratta di Don Raffaele Tatulli. 66 anni il prossimo 13 aprile. Da 39 anni sacerdote, Don Raffaele ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali gli ultimi tre sono stati quelli di parroco della cattedrale di Molfetta, di Sant'Agostino in Giovinazzo e attualmente di Santa Chille in Molfetta. La comunicazione del vescovo è stata accolta da un fragoroso applauso del crero, testimonianza della riconosciuta stima posta in Don Raffaele. Sacerdote di grande esperienza pastorale e di equilibrata capacità relazionale, Don Raffaele continuerà il ministero di parroco nella parrocchia più grande della diocesi e si accosterà al vescovo, ormai quasi al primo anno di presenza a Molfetta, come primo collaboratore nel governo della diocesi. Le funzioni del vicario generale sono delineate dal codice di diritto canonico. In ogni diocesi il vescovo diocesano deve costituire il vicario generale affinché, con potestà ordinaria di cui è munito, presti il suo aiuto al vescovo nel governo di tutta la diocesi. Al vicario generale compete la stessa potestà esecutiva su tutta la diocesi che in forza del diritto spetta al vescovo diocesano. La potestà cioè di porre tutti gli atti amministrativi ad eccezione di quelli che il vescovo si è riservato oppure che richiedono a norma del diritto un mandato speciale del vescovo. Il vicario generale e il vicario episcopale devono riferire al vescovo diocesano sulle principali attività programmate e attuate e inoltre non agiscano mai contro la sua volontà e il suo intendimento. A Don Raffaele gli auguri di tutta la comunità diocesana a cui si aggiungono quelli di Teledeon.